ciao a tutti grazie per aver scelto questo video io mi chiamo Federica e questo è il mio canale feri ASMR benvenuti in un video dedicato al rilassamento durante questo video parlerò con un tono di voce molto molto basso e molto probabilmente non riuscirete a comprendere tutte le parole che dirò questo perché voglio utilizzare una delle tecniche più amate della ASMR l'inautical gibberish dovreste indossare le cuffie oppure gli auricolari giù in descrizione trovate anche un link affiliato per l'utilizzo di un paio di cuffie davvero molto molto comode a fascia che possono essere utilizzate anche mentre si dorme l'altro consiglio infatti è quello di distendervi di mettervi comodi perché molto probabilmente al termine di questo video vi sarete addormentati spero comunque che possa riuscire a farvi provare un po' di solletico sulla testa i tingles se questa idea vi piace non dimenticate di farmelo sapere lasciando un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di questo tipo e iniziamo e iniziamo un'altraietà e devi fare anche billones tutto 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 ok solamente per me per te per te per te cosa ne ti da croce tutto 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 di all'altra di all'altra e sono croche che tanto 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 quanto tanto 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 quanto grazie faccio la caratterezza che tricata caratterezza vetterezza vetterezza e spesso vetterezza per la partecipulata e la partecipulata e il teclato che venguerà cominciare quando ci accorgiamo nella partecipulata di questo non lo facciamo va passando e con le aziende gioco direto a dar ancora scusivamente per te 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 soltanto fare con te for us per te per 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 quando il peggio è rilassato per il fracchio rilassati non c'è niente problema è soltanto rilassamento rilassati 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 tutto 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 bene tutto bene tutto bene stante ne voglio solo ne pensi niente testi testi 1,5 forse ne potresti anche dire aspetti per un cuore e sulla testa oppure sulle frate oppure le patte o sul collo e sul c'è nulla che possa essere calma 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 rilassati 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 ti prometterai ti prometterai perchè è quello che desideri di più e io voglio solo che tutto sta bene e che molto molto 10 10 9 7 7 6 4 3 2 8 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 12 12 13 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 19 19 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 18 19 19 20 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 21 20 21 22 22 non può finire con il tasto del ribasso ribasso tutto l'allureo ci andranno il croce e potrai non arricchendere l'altezza del dietro prendere l'altezza come colpire il peggio dell'altezza il peggio sottile che cadere tenzati l'altezza senza dubbio hai bisogno buonanotte spero che questo video ti sia piaciuto e che abbia sortito l'effetto desiderato fammi sapere nei commenti se hai provato il famoso brevitino della smr se ti sei rilassato o rilassata e ti lascio alla fine di questo video altri miei video che penso possono piacerti non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi caricamenti e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi bacini fatosi grazie